La deviazione che mette fuori causa Colombo sul sinistro, violento di Donnarumma che colpisce la schiena di Lepri e finisce sotto la traversa. Nulla da fare per Colombo, 3-1 per il Cesena che fa la voce grossa subito a inizio secondo tempo e porta a 2 il gol di vantaggio su Rimini che è rientrato malissimo in campo nella ripresa. Ci si aspettava una reazione da parte della squadra di Raimondi che invece ha subito il Cesena.